Amici 3B Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni a medio e lungo termine, andiamo a vedere come inizierà la settimana che parte lunedì 14 settembre, tra l'altro in molte regioni si torna anche a scuola, ebbene parte all'insegna dell'alta pressione, quindi condizioni meteorologiche ancora più estive che autunnali, in gran parte d'Italia sole splendente, temperature ancora molto molto miti, anzi davvero valori ancora estivi, potremo localmente superare i 30 gradi, un minimo di variabilità potrà essere ancora presente all'estremo sud, ma davvero con solo fenomeni isolati, quindi nel complesso, ripeto, l'estate tiene, si farà ancora vedere e sentire per diversi giorni. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.